3 manga a tema LGBT da leggere, per tutti. Primo posto, ma non per importanza, abbiamo la mia prima volta. Bellissimo manga a tema lesbo, che vi consiglio tantissimo, non è pornografico, ma è un manga serio, quindi se cercate porno avete sbagliato. Secondo posto, anche qui, non per importanza, mio figlio probabilmente è gay, Diokura, che parla appunto di una madre che cerca di accettare il professore del figlio. E al terzo posto, terzo, ultimo, ma non per importanza, forse anche il più famoso, le bizzarre avventure di Jojo.